buongiorno buongiorno a tutti grazie per essere qui eh altre persone si stanno unendo ma direi che per rispetto a tutti eh coloro che si sono collegati in tempo eh inizierei eh per chi non mi conoscesse sono Roberto Roberto Calugi il direttore di Fipe Confcommercio alla mia sinistra o eh Silvio Moretti una colonna storica del sindacale della della Federazione Italiana Pubblici Esercizi alla mia destra o Andrea Chiriatti eh una colonna più recente eh della eh del del sindacale della Fipe Confcommercio. Innanzitutto grazie a tutti voi siete tantissimi e questo credo che sia eh la una testimonianza concreta dell'interesse rispetto al tema che andremo a trattare oggi. Cercheremo di farla in maniera molto concreta, molto operativa, senza troppi giri di parole. Ci diamo eh un'oretta eh e per cercare di affrontare il tutto ovviamente poi se ci saranno ulteriori richieste pronti anche a eh rimanere collegato qualche qualche minuto di più. Permettetemi prima di iniziare visto che quando si chiude un contratto non è mai mai il lavoro di un singolo ma è il lavoro di una squadra eh permettetemi quindi di ricordare e ringraziare sia la la parte diciamo così politica che ha seguito eh il eh il contratto partendo ovviamente dal presidente testo Pani dal vicepresidente Vicario Cursano ma un ringraziamento particolare eh lo voglio riservare al vicepresidente delegato eh proprio alla negoziazione al lavoro eh che è Cristian Biasoni e al capo delegazione Riccardo Orlandi che eh eh ci hanno accompagnato e sono stati protagonisti davvero di una lunghissima eh trattativa. Ovviamente ricordo ringrazio e saluto anche l'amico Premoli eh che ci ha dato una mano anche lui eh in in questa fase così come tutta la delegazione trattante ecco forse una delle caratteristiche di eh dei rinnovi della federazione è proprio quello di avere costantemente eh nel una delegazione trattante che è composta dalle varie anime della federazione quest'anno abbiamo avuto appunto ovviamente rappresentanti del territorio non li cito solo perché poi parevi magari danno a qualcuno che non ricordo eh abbiamo avuto rappresentanti direttamente delle imprese e anche rappresentanti di settori che prima non aderivano alla Fipe con commercio ne menziono solo uno eh Capurro il presidente Capurro del catering che infatti poi ha avuto un suo primo spazio storico all'interno del contratto. Ringrazio ovviamente Silvio, Andrea, cioè Silvio Moretti e Andrea Chiriatti eh che sono stati eh quante più di me impegnati sulla eh nella trattativa. È un contratto di lavoro certamente importante. Non 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 usiamo eh diciamo mezze parole. È un contratto di lavoro particolarmente importante non lo non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. È il terzo contratto nazionale più applicato in Italia. Dopo quello di commercio, dopo quello eh della metalmeccanica è il terzo contratto per numero di persone che 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 vengono contrattualizzate più impiegato nel nostro paese. Oggi siamo se non se non erro intorno ai eh trecento ai settecentomila persone che che eh sono eh a cui si applica questo questo contratto. Ricordo che l'occupazione complessiva di questo settore di circa un milione di persone. Quindi ehm stiamo parlando veramente di numeri di numeri importanti e questo fa sì e comporta che la negoziazione sia stata particolarmente complicata eh particolarmente difficile. Da una parte proprio per l'importanza del contratto eh che fa un po' di da apripista a tutta un'altra serie di contratti che ci sono nell'ambito del turismo e dall'altra anche per un contesto eh certamente complicato. Venivamo dal peggior periodo storico dei pubblici esercizi eh e quindi con tassi di indebitamento delle imprese che nel corso degli anni le imprese quelle imprese che ce l'hanno fatta a sopravvivere ai famosi due anni di 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 chiusura e riapertura insomma cosa che conoscete meglio di me eh per quelle imprese che ce l'hanno fatta certamente tassi di indebitamento molto alti un tassi di inflazione molto alti tassi di interesse e quindi oneri finanziari che incidono sul debito certamente certamente diversi rispetto a quelli che avevamo registrato nel corso degli ultimi anni ma dal lato del sindacato e quindi dal lato dei lavoratori eh ovviamente quando parliamo di tassi di inflazione eh pensiamo anche al fatto che eh ciascuno di noi ciascuno dei dipendenti ciascuno che lavora alle dipendenze di qualcuno nel corso degli ultimi del del ventuno e del ventidue eh in parte anche del ventitré ha perso sostanzialmente uno stipendio con i tassi di inflazione che si sono registrati quindi questo ha eh reso le distanze fra le parti molto 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 difficili da eh colmare per questo è stata una negozazione difficile permettetemi eh lo faccio adesso perché prima sembra sarebbe potuto sembrare stucchevole ma un ringraziamento anche alle organizzazioni sindacali va fatto perché certamente eh è stato fatto uno sforzo anche da parte da parte loro è un eh contratto è il miglior contratto eh del mondo no certamente non lo è a me se non concesso che esiste esista il miglior contratto del mondo io credo che non esista per definizione però non ho dubbi che è il miglior contratto possibile è il miglior contratto possibile che nasce appunto dopo una negoziazione molto dura molto difficile solo l'ultimo incontro è durato ventitré ore e avremmo rotto solo in quella riunione almeno cinque o sei volte le trattative per poi cercare di ritornare al tavolo quella notte e quel pomeriggio e provare e provare a chiuderlo è il miglior contratto possibile perché questo settore ha certamente bisogno aveva certamente bisogno di un contratto eh per eh dare un segnale anche di attrattività rispetto al comparto e per riportare certamente un'attenzione e una comunicazione positiva rispetto a un comparto dove troppe volte eh c'è una narrazione negativa e dove c'è un'evidente crisi di ehm eh offerta di lavoro con difficoltà a riuscire a trovare personale. È un contratto ma poi lascio a Silvio e Andrea nella nella nell'ordine che loro vorranno seguire che comunque nonostante i trenta mesi di vacazio non prevede eh un unatantum è un contratto eh che quindi siamo riusciti a fare per tre anni e mezzo quindi scade il trentun dodici duemila eh ventisette ed è un contratto che ha avuto una serie di attenzioni importanti a una serie di attenzioni importanti e non è un caso perché è proprio figlio delle considerazioni che facevamo prima rispetto anche a tutta una sfera di diritti penso in particolar modo a tutta una serie di interventi che sono stati fatti contro la violenza di genere a favore della maternità perché questo nell'intendimento eh che eh di delle parti trattanti in qualche maniera vuole riportare un po' di attrattività rispetto al comparto. Certo non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo questo è normale però alcuni segnali io definisco segnali molto importanti sono stati messi così come ad esempio si è fatto un lavoro molto importante eh sul tema della classificazione ora io la dico male eh ma eh la provo a dire non in sindacalese mi avessero detto prima di fare questo mestiere che in alcune in alcune riunioni ci sarebbero state questioni di lana caprina rispetto ad alcune questioni che oggettivamente mi sembravano facilmente risolvibili non ci avrei creduto stando dentro devo dire che poi ogni parola viene pesata ma come molti di voi sanno meglio di me e quindi essere riusciti perlomeno a intervenire eh ammodernando in tutti i luoghi possibili la classificazione credo fosse ferma in alcuni casi agli anni settanta quindi in periodi in cui se parlavamo di poke o di sushi ci avrebbero insultato perché eh il sushi era quello di fantozzi oggi è diventato eh come dire un cibo conosciuto da tutti aver potuto eh comunque essere intervenuti sulla parte di classificazione rende questo contratto sicuramente più attuale questa è la prima presentazione quindi eh sono molto molto eh impaziente di di vedere eh Silvia Andrea è all'opera e quindi io lascio a voi volentieri la parola grazie e allora eh prima di lasciare ad Andrea che entrerà proprio sulla parte più tecnica del eh dei contenuti del contratto a me vengono in mente eh almeno due o tre parole che secondo me hanno caratterizzato questa fase negoziale diciamo che di contratti ne ho seguiti un po' e quindi eh otto contratti otto contratti di lavoro e mh e in questa in questa negozazione mi vengono in mente diciamo la la sintetizzerei anche in maniera con almeno due parole importanti la prima è responsabilità che in qualche modo anche il direttore generale ha richiamato ed è un senso di responsabilità che ha caratterizzato devo dire entrambe le parti eh perché il contratto è un fatto importante il contratto è un presidio di legalità è un modo per dare per rispondere anche a certe a certi fenomeni di concorrenza seleale che non solo nel nostro settore ma in particolare nel nostro settore allignano e quindi eh eh è sicuramente stata una parte importante e poi mi viene in mente un'altra parola che non si usa nel linguaggio sindacale ma che è spartiacque e mh perché secondo me è molto importante cioè questo contratto viene da un momento come è stato ricordato e che come tutti purtroppo ci ricordiamo di 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 grave eh di gravità per il nostro paese quindi gli anni della pandemia e si apre a un orizzonte diciamo che in qualche modo sarà anche nuovo anche anche da scoprire e quindi per questo diventa un contratto importante probabilmente farà da strada eh da apripista come diceva Calugi anche ad altri contratti del del settore è un buon contratto eh giustamente i contratti quando si fa un contratto eh sembra che nessuno dei due sia contento ma che al tempo stesso tutte e due le parti siano contenti in genere in questo caso si riassume dicendo che è un buon contratto però direi un buon contratto e adesso lo vedremo perché con eh l'illustrazione dei contenuti eh da parte di di Andrea Chiriatti eh è un contratto e qui concludo questa breve introduzione al che apre secondo me anche ad elementi nuovi eh nuovi ma ma vecchi per certi versi cioè quelli del secondo livello è un livello che viene ultimamente è stato poco praticato la pandemia sicuramente ha condizionato in questo gli scenari economici altrettanto i difficili scenari economici però il secondo livello può essere per il nostro settore un un elemento importante soprattutto perché si viaggia verso eh elementi nuovi anche legati a alla alla parte economica quindi al welfare ma soprattutto perché già dentro il contratto già tutta la parte che riguarda il mercato del lavoro secondo noi si aprono ampi spazi per dar modo alla contrattazione secondo livello perché dico è importante aprirsi a secondo livello perché per quanto si possa essere attenti eh attenti precisi e nel nel contratto nazionale nel contratto nazionale eh si fa un abito che dovrebbe andar bene per tutti ma che poi in realtà potrebbe non andar bene completamente o comunque non essere su misura per 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 molte aziende ed ecco che la contrattazione secondo livello può non dico sopperire ma intervenire aggiustare come avrebbe un sarto per eh far sì che quella l'abito sartoriale sia effettivamente a a vantaggio di queste delle imprese tra l'altro su questo poi ci ritorneremo probabilmente anche in nel corso dei prossimi eh incontri webinar la federazione sta pensando proprio di fare un corso di eh dedicato alla contrattazione di secondo livello e che sicuramente ci aprirà spazi nuovi e darà la possibilità anche ai territori e alle imprese che magari meno strutturate perché le imprese più grandi sappiamo che fanno una contrattazione di secondo livello storica di eh eh cimentarsi anche in questo ambito bene allora diciamo che le introduzioni i commenti del direttore di Silvio mi facilitano molto il compito quindi non devo giustificare il fatto che sia un buon contratto possiamo entrare direttamente sui contenuti Marco se ci lanci questa presentazione che ci accompagnerà e che poi distribuiremo immagino e che poi non distribuiremo no no lo distribuiremo ovviamente come la prima domanda quando ci sono delle slide in un webinar darete i quelle slide dal termine del webinar ovviamente daremo le slide dal termine del webinar e ne approfitto però su questo per dire una cosa importante il dirare le battute ehm l'invito ai colleghi delle ASCOM FIPE Commercio Territoriali è provare il più possibile organizzare momenti eh in carne umana con gli imprenditori per raccontare dal vivo il contratto questo lo dico perché molto spesso ehm ci troviamo di fronte a a situazioni nelle quali eh gli imprenditori perdono di vista perché comprensibilmente fanno un altro lavoro le opportunità e le potenzialità eh che ha il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro quindi come dire il l'opportunità del rinnove un'opportunità per raccontare al meglio tutto quello che è contenuto all'interno del contratto che può aiutare eh le aziende del settore all'organizzazione del lavoro eh più profigua più flessibile eh più orientata ai bisogni quotidiani che ci sono e che non sono pochi. Allora eh andiamo avanti questa sarà eh un po' il il l'indice della della presentazione che mh sia il direttore che eh sia Roberto che Silvio hanno un po' ripercorso nella loro introduzione ehm i temi sono quelli che sono stati introdotti come come vedete ehm credo che le la riflessione iniziale di Roberto ehm sia importante perché eh inquadra ehm come si è evoluta la negoziazione e il filo conduttore dei temi trattati che evidentemente hanno la loro un loro collegamento diretto c'è un un eh come dire c'è l'opportunità di leggere il rinnovo attraverso un filo conduttore che è quello certamente dell'ampliamento della sfera dei diritti su determinate fasce più fragili eh della degli occupati del settore quindi come dire c'è un filo conduttore che che segue questi temi quindi il tema sicuramente del genere ehm e della della presenza appunto femminile eh all'interno del settore c'è poi il grosso capitolo della classificazione dell'inquadramento e ehm e ovviamente poi c'è la parte la parte economica che eh viaggia di pari passo con il grosso capitolo del welfare contrattuale ehm che si sintetizza poi nelle due interventi sull'assistenza sanitaria allora provo a entrare nel merito dei contenuti del contratto allora mh innanzitutto mh mi sembra doveroso eh sottolineare la premessa che è stata inserita all'interno in apertura del rinnovo questo è un contratto che eh è un rinnovo che integra il testo del duemiladiciotto perché questa precisazione perché evidentemente ci avviciniamo anche a un a una fase in cui ci sarà poi una stesura del testo completo questo è un testo che si inserisce all'interno del contratto della ristorazione dei pubblici esercizi che è quello del duemiladiciotto quindi evidentemente fa scopa con l'introduzione che facevo prima che è quella di lettura organica del testo contrattuale quindi va letto tutto il testo contrattuale quello del duemiladiciotto insieme alle integrazioni modifiche introdotte dall'accordo del cinque giugno sulla durata è stato detto quindi mh da un punto di vista temporale non è banale che ci sia una decorrenza di tre anni e mezzo ovviamente la precisazione che vedete è una precisazione tecnica ma doverosa perché come sapete bene all'interno del testo contrattuale ci sono ovviamente decorrenze diverse su istituti che hanno una valenza ultrattiva quindi proseguono la loro vita successivamente anche alla scadenza del contratto come buona parte il testo contrattuale per consentire poi l'operatività all'interno dei contesti produttivi sulla sfera d'applicazione è stato fatto il passaggio da parte del direttore all'inizio sul tema del banketing quindi abbiamo allargato o meglio meglio precisato la definizione delle aziende del banketing all'interno del testo contrattuale esisteva una dizione un po' un po' retro di somministrazione di pasti a domicilio che ritenevamo ovviamente superata dal tempo e dalla tipologia di attività che le aziende del banketing svolgono adesso quindi abbiamo voluto integrare il testo la sfera d'applicazione inserendo una dizione più corrispondente alla realtà non solo per un valore tecnico ma anche appunto per un valore simbolico e politico sindacale eh vista anche la mh recente ma non tanto recente costituzione dell'associazione all'interno eh all'interno della Fipe sul secondo livello eh Silvio lo citava come citava mh giustamente anche il il tema del percorso che eh faremo partire molto probabilmente in autunno anzi senza molto probabilmente ehm sul secondo livello perché riteniamo importante che ci sia un percorso ehm formativo forse il termine non è non è del tutto rappresentativo un percorso di accompagnamento al secondo livello che non sia esclusivamente solo quello aziendale ma comprenda anche quello territoriale quindi è stato fatto un un semplice eh passatemi passatemi il termine lavoro di eh aggiornamento delle date delle decorrenze dell'elemento di secondo livello sull'effettività della contrattazione di secondo livello quindi eh in caso di mancato accordo entro il trentuno ottobre duemilaventise il datore di lavoro erogherà con la retribuzione del mese di novembre gli importi suddivisi per l'inquadramento l'alternativa è l'accordo aziendale o territoriale con la somma flat dei centoquaranta euro per interventi e strumenti di wealth questo questo intervento ovviamente va contestualizzato nell'attivazione del secondo livello cioè sappiamo bene eh anticipando domande o possibili timori o fremiti o svenimenti da parte dei oltre duecentosessanta collegati che questo percorso si attiva ovviamente solo esclusivamente se si ehm abilita un percorso di contrattazione di secondo livello da parte della controparte quindi non è automatico è automatico nella misura in cui c'è la volontà di attivare un percorso del secondo livello abbiamo ovviamente aggiornato anche i termini per l'assorbibilità eh del premio che ovviamente è successiva al primo giugno duemilaventiquattro che ovviamente è la data di entrata in vigore del contratto grande capitolo del dell'aggiornamento del testo sui temi delle pari opportunità violenza di genere contrasto alle violenze molestie allora ehm sostanzialmente abbiamo tre eh articoli che sono stati complessivamente rivisitati e aggiornati quello dei congedi per le donne vittime di violenza di genere è stato quasi del tutto innovato in virtù di un aggiornamento normativo che andava adeguato quindi se la legge già prevede l'articolo ventiquattro del decreto legislativo ottanta del duemilaquindici la possibilità nei casi appunto previsti eh quindi mh laddove le lavoratrici siano inserite nei percorsi di protezione quindi non parliamo di eh situazioni eh di violenza generica parliamo di situazioni gravi e accertate ecco per capirci per fugare anche qui i dubbi laddove ci siano situazioni accertate con le certificazioni previste dalla legge la legge stessa attribuisce la possibilità di un congedo di novanta giorni lavorativi con una copertura del cento per cento della retribuzione che cosa abbiamo previsto in più abbiamo previsto un ulteriore periodo di novanta giorni eh di novanta giorni congedo con la copertura del cento per cento retribuzione di fatto ehm mi soffermo su questo tema perché eh come ci diciamo sempre il nostro è un settore a forte componente femminile più o meno il cinquantadue per cento degli occupati eh sono donne da più di qualche collega del lavoro ci arriva del collega del territorio ci arrivano segnali preoccupanti sulla diffusione di questi fenomeni quindi diciamo che siamo ehm soddisfatti di eh rispondere a un'esigenza eh che eh riteniamo crescente meno soddisfatti ovviamente di un fenomeno che è preoccupante quindi l'invito anche ai colleghi che ci ascoltano e ovviamente anche agli imprenditori e di grande attenzione e sensibilità a un fenomeno e a fenomeni che sono ovviamente ehm pericolosi che cosa abbiamo previsto in più? Abbiamo previsto che la lavoratrice può presentare domande di trasferimento ovviamente laddove ci siano aziende che abbiano più sedi ehm abbiamo provato anche ad abilitare il ruolo delle associazioni di categoria dando la possibilità anche tramite gli enti bilaterali di provare ad accompagnare questi fenomeni di eh questi fenomeni attraverso la possibilità di ricollocazione delle lavoratrici presso presso aziende associate. Ci è sembrato un modo anche per valorizzare il ruolo sia delle associazioni di categoria territoriali che degli enti bilaterali su un tema molto delicato e sull'opportunità anche di eh far valere eh il ruolo sociale che hanno anche gli enti bilaterali da questo punto da questo punto di vista. Ehm ultimo aspetto al termine del percorso di protezione l'azienda può valutare come dicevo prima anche una riorganizzazione dell'orario di lavoro ovviamente mh contemperando le esigenze aziendali. Altro altro tema importante quello delle pari opportunità anche qui complessivamente su questi temi c'è stato un ricepimento di tutte le novità introdotte recentemente dal legislatore che viaggiano di pari passo anche con mh le novità che eh sono state introdotte al legislatore comunitario ehm in particolare abbiamo previsto per le aziende che hanno più di cinquanta dipendenti quindi l'istituzione di questa figura della garante della parità che ha questi compiti di intervento intervento nel senso di confronto ovviamente con i datori di lavoro eh nell'ambito delle tematiche della pari opportunità e nell'ambito di una tematica eh che eh a breve entrerà anche nella legislazione italiana che quella della parità retributiva eh quindi abbiamo provato anche essere un po' anticipatori di quelli che saranno i prossimi interventi del legislatore su questi temi sul contrasto alle violenze e molestie è stato detto ehm abbiamo provato a fare due cose mh anche qui aggiornare il testo il testo di contesto contrattuale rispetto alle novità introdotte alla legge provare a valorizzare a continuare a valorizzare il ruolo delle parti e degli enti eh dell'ente bilaterale anche nazionale rispetto alla predisposizione di programmi informativi eh della formazione possibilità di formazione del personale su questi temi di specifici interventi formativi con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali anche attraverso i fondi interprofessionali anche attraverso la previsione di un'ora aggiuntiva di assemblea retribuita oltre il monte orario complessivo previsto che ovviamente l'ora che di assemblea che riguarda che debba riguardare questi temi e la possibilità appunto di valorizzare anche nell'ambito dei contesti aziendali le commissioni paritetiche che si occupano di questi temi vado sul sulla classificazione inquadramento allora è stato detto ehm sul ehm sull'opera titanica di eh titanica ma allo stesso tempo è minuziosa di eh aggiornamento del testo contrattuale allora la premessa è la seguente per fugare ogni possibile dubbio rispetto all'ammodernamento del testo contrattuale l'intendimento che ci siamo dati convenuto con le organizzazioni sindacali è stato quello di rivisitare complessivamente le mansioni e le figure professionali mantenendo inalterato non solo i dieci livelli di inquadramento ma soprattutto le declaratorie attuali questo per due ordini motivi il primo perché eh riteniamo che le declaratorie attuali siano già abbastanza sufficientemente moderne e complete e rendano bene l'idea della differenza che c'è nei diversi livelli di inquadramento e come questi si esplicitano all'interno all'interno dell'organizzazione aziendale il secondo motivo è ovviamente anche un motivo di tutela nei confronti dell'organizzazione aziendale quindi evitare di trascinare un pericoloso contenzioso cambiando le declaratorie ehm in corso di vigenza dei rapporti di lavoro attuali per la stragrande maggioranza appunto dei lavoratori del settore che ovviamente hanno già una lettera di assunzione con un inquadramento e fanno riferimento a quelle specifiche declaratorie come vedete qui c'è una rassegna di della maggior parte delle figure introdotte quindi eh partendo dal quadro anche le figure di staff sono state riscritte per renderle ehm più adeguate più al passo con i tempi quindi sono state introdotte anche una serie di attività di staff che anche le aziende più strutturate hanno eh sia sulla parte appunto di amministrazione che sulla parte di HR che sulla parte di acquisti provando a ricomprendere tutte quelle che sono le funzioni all'interno di un'organizzazione aziendale anche quelle più moderne che fanno riferimento come vedete al livello al primo livello sulla sicurezza sulla privacy e sull'applicazione della legge due e tre uno entrando nel merito invece delle figure più tipicamente ehm inserite all'interno dell'organizzazione del lavoro del pubblico esercizio incominciamo a partire dal secondo livello in poi come vedete c'è stato uno spostamento del dietologo dal quarto al secondo livello figura che riguarda prevalentemente se non totalmente le aziende della ristorazione collettiva stessa cosa è stata fatta per di riscrittura non di spostamento sul responsabile del magazzino sempre al secondo livello vado avanti con quelle che eh riteniamo essere le novità più rilevanti che sulla classificazione inquadramento sono state introdotte allora ehm per quanto riguarda il quarto livello come vedete sono state introdotte due figure che riguardano le aziende di banketing e catering le due figure sono due figure che possono essere sintetizzate come ehm figure eh plurimansione sono state introdotte perché evidentemente all'interno del testo contrattuale non esistevano delle figure che rappresentano la complessità e la totalità delle mansioni svolte delle ehm dell'addetto all'attività di produzione di pasti allo stesso tempo del cameriere all'interno dell'azienda dell'azienda del banketing quali sono queste caratteristiche sono ovviamente le caratteristiche di eh allestimento e disallestimento del servizio che sono tipiche di questa tipologia di azienda quindi entrambe sono state di nuova ehm scrittura e come vedete inserimento per quanto riguarda invece il quinto livello si segnala l'inserimento dell'operatore la ristorazione commerciale organizzata a catena cosiddetto operatore pluriservizio una figura che nella prassi del settore della ristorazione commerciale eh e e e già realtà è già prassi ed è stato importante codificarlo all'interno del contratto nazionale sempre sul settore del banketing è stata inserita anche una figura eh passatemi il termine più di logistica che ricomprendesse sempre l'allestimento e disallestimento del servizio eh comprendendo anche ehm la conduzione degli automezzi quindi tutto quello che consente lo svolgimento del servizio nell'attività del banketing è stato aggiornato anche eh le è stata anche aggiornata come vedete la figura che riguarda la sicurezza adeguandola appunto alle novità normative e infine elemento molto importante oggetto di lungo confronto con le organizzazioni sindacali sono stati riaggiornati e riscritte le due figure dell'addetto servizio mensa al livello sesto super al livello sesto allora su questo tema è importante fermarsi per due ordini motivi primo perché eh le operazioni di riscrittura sono state due la prima il superamento della descrizione precedentemente contenuta a livello sesto super quindi è stata l'esemplificazione è stata eliminata il ehm l'anzianità nel settore è passata dai dodici ai quindici mesi quindi sta fatta un'operazione di prolungamento del del termine che consente il passaggio di livello e contemporaneamente quindi questo è stato fatto ovviamente sia per il livello sesto super che per il livello sesto quindi il passaggio di livello avviene per l'addetto servizio mensa al raggiungimento di quindici mesi di ansia nel settore contemporaneamente rispondo a una delle diverse domande che ci sono giunte in queste settimane è stata scritta una norma di raccordo contrattuale relativa esclusivamente al addetto servizio mensa che riguarda quindi il personale attualmente in forza che è inquadrato al sesto livello come ha detto servizio mensa lo ripeto fino allo svenimento per evitare i dubbi che si stanno che si sono diffusi in questi in questi giorni e che consente di gestire quindi il personale in forza attualmente quindi per i neoassunti valgono le nuove regole dei quindici mesi per il personale in forza vale questa norma di raccordo contrattuale quindi il personale in forza inquadrato al sesto livello con anzianità di settore pari o superiore ai dodici mesi alla data di sottoscrizione del contratto fa avviene automaticamente il passaggio il mese successivo alla firma dell'accordo quindi chi è già con i dodici mesi di anzianità diversamente chi si trova nella fase dei sei e dodici mesi il passaggio avviene il mese successivo al compimento di dodici mesi quindi questa è una formula che è servita a raccordare l'attuale anzianità professionale rispetto a quella eh prevista dal nuovo dalla nuova decorrenza con la classificazione direi che abbiamo finito passiamo un altro tema molto importante che è stato menzionato che è quello appunto dei congedi ehm anche qui ehm ho inserito una un'introduzione sul contesto perché eh credo che sia importante prendere consapevolezza del fatto che il testo contrattuale è un testo vivente non è un testo che vive sulla luna cioè è un testo che si inserisce all'interno di un tendenza del legislatore che va in una specifica direzione che è quella di di valorizzare determinati istituti normativi nello specifico quello dei congedi in virtù come sapete bene di una situazione storica eh che vive non solo il nostro paese ma l'intero continente europeo visto che c'è una derivazione di queste normative da direttive europee di grossa crisi dei tassi di natalità quindi è preciso obiettivo del legislatore quello di incentivare l'utilizzo dei congedi non solo quegli obbligatori quindi classici congedo congedo di maternità o quello obbligatorio di paternità ma di favorire il più possibile anche l'utilizzo del congedo parentale quindi la rivisitazione di tutti gli articolati che avete visto all'interno del del contratto dell'accordo di rinnovo ha seguito questi principi riguardando i quattro i quattro eh i quattro congedi insomma le quattro forme di ehm di tutela della genitorialità che cosa abbiamo previsto nello specifico abbiamo previsto che a decorre la sottoscrizione del rinnovo è prevista per queste quattro tipologie la maturazione degli istituti delle ferie dei permessi retribuiti del ratio tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità è stata fatta una differenziazione con il congedo parentale nelle decorrenze che è quella che vedete quindi in relazione del congedo parentale invece la maturazione degli istituti delle ferie e dei permessi e del rateo di tredicesima mensilità è contestuale alla sottoscrizione del contratto per il solo rateo di quattordicesima mensilità è stato previsto che questo avvenga a far data dal primo dicembre duemila ventisette quindi ripetita Juvent visto che il tema è importante di eh riscrittura rispetto alla normativa contrattuale precedente quindi i congedi di maternità paternità alternativo che è quello che viene utilizzato nel caso in cui non venga utilizzato quello di maternità e i riposi giornalieri prevedono una maturazione degli istituti differiti da subito dalla sottoscrizione del contratto per il congedo parentale vale per tutti gli istituti fuorché per la quattordicesima mensilità che decorre dal primo dicembre duemila ventisette allora la parte bella come si suol dire parte economica ehm come vedete la decorrenza delle tranche è la seguente siccome anche qui la sensibilità di chi ci ascolta sappiamo benissimo essere alle tabelle retributive aggiornate privatamente con molti di voi è ho già eh rassicurato che arriveranno le tabelle retributive aggiornate vi rassicuro nuovamente che a breve e quindi sicuramente entro il periodo di paga ehm vi trasmetterevo le tabelle retributive aggiornate che ovviamente sono oggetto di sottoscrizione con le organizzazioni sindacali quindi non sono una facoltà unilaterale che la FIPE ha di poterle trasmettere a tutti voi gli aumenti sono quelli che conoscete molto bene riparametrati ovviamente sul quarto livello sono cinquanta euro nel mese di giugno duemilaventiquattro al quaranta giugno venticinque quaranta giugno ventisei trenta giugno ventisette e infine dicembre ventisette quaranta euro per il totale di duecento euro segnalo come ovviamente avrete avuto modo di leggere eh per i colleghi della ristorazione collettiva o per i colleghi che seguono aziende della ristorazione collettiva che è stato previsto una decorrenza diversa perché è stata prevista una decorrenza diversa mi ha fatto piacere appunto come dicevo all'inizio inserire la nota di raccordo che è al termine del testo contrattuale anche per darvi la possibilità di leggere in maniera coordinata il testo per renderlo anche sensato rispetto al percorso di chi poi ehm ha effettuato la negoziazione che ovviamente ehm ha ben presente le motivazioni che hanno portato ehm le parti a prevedere una decorrenza diversa quindi come vedete nella nota di raccordo c'è quell'intendimento ben preciso a considerare la situazione specifica del comparto della ristorazione collettiva che come sapete bene è condizionato non solo da eh le contingenze macroeconomiche che ovviamente ha hanno travolto anche il settore del della ristorazione classica o piuttosto che della ristorazione commerciale ma che riguardano ovviamente tutto il tema del ehm del codice degli appalti della revisione dei prezzi che eh mette non poco in difficoltà per usare un eufemismo il settore della ristorazione collettiva quindi è stata prevista una decorrenza diversa di due tranche rispetto a la tabella economica prevista per la generalità delle altre imprese quindi con la seconda e la terza tranche spostate a settembre venticinque e ventisei anche qui eh per dare coerenza al percorso di negoziazione le parti non si sono tirate indietro rispetto a un tema molto importante che è quello del welfare contrattuale del e nello specifico dell'assistenza sanitaria integrativa quindi è stato previsto dal primo gennaio duemilaventisette l'aumento di ulteriori tre euro rispetto ai dodici già previsti mensili a carico del datore di lavoro per il fondo est ehm e per invece i quadri venti euro annui in questo caso non mensili dal primo gennaio duemilaventicinque e venti dal primo gennaio duemilaventisette il perché di questo di questo intervento ovviamente è riscontrabile in quella che è una dinamica della nostra società che è sempre più preoccupante che riguarda non solo l'invecchiamento della popolazione che riguarda non solo la difficoltà delle casse pubbliche rispetto agli interventi che riguardano la sanità ma non solo quindi l'obiettivo delle parti è ovviamente dichiarato quello di rafforzare tutti gli strumenti welfare contrattuale che riteniamo essere un pezzo rilevante il presente del futuro della contrattazione nazionale ultima ehm ultimo riferimento alla al futuro al rinnovo mh è ovviamente una clausola di natura più politica eh le parti si sono date l'impegno eh a vedersi entro sei mesi e la scadenza per valutare le condizioni per proseguire eh poi le trattative di rinnovo del prossimo contratto io vi ringrazio per l'attenzione mh non lo so se ci sono come vogliamo procedere col direttore domande o possibili ulteriori considerazioni è possibile guardo la regia scriverle direttamente sulla 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 chat vi chiederei forse apri domande risposte lì vediamo se qualcuno ok allora credo che la cosa migliore sia se eh le ex sono state eh che aspetta Andrea che magari le domande vengano scritte qui visto che siete tantissimi siamo più di duecentosessanta persone eh se eh collegati magari siete anche di più ehm che le domande vengano scritte qui in modo tale che eh riusciamo riusciamo a leggerle e le leggiamo ovviamente in ordine di arrivo qui abbiamo eh l'amico De Piccoli da Torino che dice le retribuzioni degli extra non sono state aggiornate o saranno divulgate unitamente alla diffusione delle nuove retribuzioni corretto e la risposta se l'è già data nella domanda eh saranno oggetto di divulgazione non appena le tabelle retributive complessivamente verranno sottoscritte unitamente dalle parti firmatari del contratto quindi sia gli extra che tutte le tabelle retributive che anche ehm gli esercizi terza e quarta categoria ve li trasmetteremo non appena sottoscritti. Ok abbiamo detto chi sono i firmatari lato sindacale del contratto? Cioè abbiamo hanno firmato i tre sindacati principali e anche eh recentemente l'UGL Sì come diciamo come come prassi vuole eh l'accordo in separatamente è stato sottoscritto anche eh con l'UGL quindi le aziende che ovviamente al settore hanno anche una rappresentanza sindacale aziendale eh dell'UGL giusto che sappiano come giustamente ricordava il direttore che eh è stato sottoscritto l'accordo anche separatamente ovviamente con l'UGL. Le slide le invierete? No me le terrò sotto il cuscino o no a chi fa arrivare un bonifico di venti euro direttamente a Granderei Criatti insieme a venti euro per due sessanta di non ti dico che ti paghi le vacanze certo che arrivano le slide insieme a un set di pentole ve le inviamo eh ne abbiamo sicuramente avevo io una domanda eh invece secondo voi la scrittura del del quando sarà pronto del testo la redazione del testo grazie a Dio non essendoci persone che mettono in difficoltà il sottoscritto nella chat ci prova il direttore generale e quindi eh che la stesura del testo ehm che ehm come dire una parte molto importante ehm perché consente poi di leggere in maniera coordinata anche tutto il testo contrattuale ehm avverrà ehm spero entro il mese di luglio. Valentina sono sono Roberto non non capisco la domanda questo è il contratto dei pubblici esercizi eh e girala cioè nel senso abbiamo parlato della collettiva perché sul tema collettiva c'è stato eh come dire un romanzo storico ormai eh non più avvincente eh perché eh un'associazione che era rientrata dentro la Fipe Langem che rappresenta un paio di aziende da ristorazione con qualche azienda in più da ristorazione collettiva è uscita dicendo che il contratto non l'avrebbe mai firmato e di fatto non l'ha firmato ma innanzitutto la rete Fipe con commercio rappresenta decine di aziende di ristorazione collettiva ma in più e tra l'altro alcune aziende importanti come la Pellegrini sono associate direttamente alla federazione ma in più il contratto è stato firmato dalla dal mondo delle cooperative quindi è un'aggiunta a quello della ristorazione collettiva ma il contratto si rivolge ai pubblici esercizi anche perché sarebbe difficile giustificare settecentomila persone di applicazione al mondo solo della collettiva invece Diana Di Paolo chiede una cosa più tecnica. No dopo quindici mesi per i nuovi per i nuovi. No leggila però la domanda. Allora mi viene che viene chiesto se ehm i nuovi assunti al sesto livello passeranno al sesto super dopo dodici mesi. Ripeto questa è una norma che riguarda esclusivamente gli addetti mens e passeranno al sesto super dopo quindici mesi ne ho assunti. Quindi ripeto la norma contrattuale che vedete sul passaggio sesto sesto super riguarda solo gli addetti mens ok? No dubbi addetti mens eh Mirko ci chiede la normativa sulla violenza di genere ha per soggetti solo le lavoratrici lavoratori e persone non 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 eh cisgender no Mirko guarda ti posso tranquillizzare che ci siamo preoccupati in sede di redazione del testo di tenere ehm il il genere eh non definito nella formulazione proprio perché eh la violenza ovviamente può può riguardare tutti non solo le donne e quindi assolutamente è stato un un cruccio della delegazione trattante di non limitare eh il tema della violenza esclusivamente esclusivamente alle donne. A Giuseppe rispondo io da Cagliari Giuseppe Scura per gli incontri sul territorio corpo e representi qua hai voluto far vedere che hai studiato latino Silvio e Andrea sono hanno disponibile anche il remoto per darci sul posto tecnico. No no te li mando proprio lì e te li tieni lì direttamente anche un paio di mesi quindi va benissimo Giuseppe quando vuoi. È sempre piacere in Sergio. Quando vuoi organizziamo adesso eh il problema è che abbiamo già una lista molto lunga e ogni tanto li vorrei anche in ufficio così eh però sicuramente possiamo organizzare eh una presenza anche perché poi essere presenti e da eh una maggiore capacità di interazione. Volevamo eludere non so se ci sono altre domande la la domanda del direttore generale sul. Ah vero. Sulla 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 stesura. No 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 entro fine luglio conteremo di fare la stesura. Esatto di iniziare c'è solo un piccolo problema ma piccolo diciamo relativamente che eh noi abbiamo adesso più contratti come sapete che opera soprattutto eh nelle associazioni territoriali eh e quindi c'è un problema di eh omogenizzare omogenizzare l'aspetto della bilateralità eh abbiamo bisogno di un nuovo statuto quindi stiamo lavorando anche su quello d'accordo con anche con le altre parti datoriali e poi con il sindacato quindi la stesura l'impegno ci sarà ovviamente i tempi poi dipendono non solo da noi ma anche da chi ci sta di fronte. Allora Corrado da Parma saluto i colleghi del territorio per queste domande buongiorno con riferimento al disciplina del contratto a tempo determinato non ho visto nessuna modifica corretto non c'è sentita nessuna modifica per i contratti a termini oltre dodici mesi le causali elencate all'articolo novanta possono essere vari dai sensi della della lettera dell'articolo diciannove non è la lettera quella dell'articolo novanta eh Corrado perché eh l'articolo novanta è eh una eh ehm recepisce una delega propria sulla stagionalità contrattuale quindi è l'articolo ventuno comma due del decreto ottantuno ehm è il diciamo il binario della stagionalità quello che tu citi è il binario del tempo determinato ordinario eh quindi mh secondo il nostro testo contrattuale possono essere fatti possono essere sottoscritti a tempo determinato ex articolo diciannove esclusivamente entro i dodici mesi. Eh spero di aver risposto in maniera sufficientemente chiara. No? No? Lo diciamo andiamo a fare un lavoro extra di surra che ci sono aumenti retributivi sì sono gli aumenti proporzionali agli aumenti eh retributivi che avete visto come dicevo prima in sede di sottoscrizione delle tabelle retributive che speriamo avvenga a breve eh perché devono essere sottoscritti anche dal sindacato non ve le possiamo mandare ce le abbiamo pronte ma è oggetto di di condivisione ci saranno vi trasmetteremo anche gli aumenti relativi al lavoro extra di surroga. Vedo anche Fabrizio Chinzari che ci scrive che saluto le somme erogate con la contrattazione di secondo livello vanno destinate esclusivamente al welfare e sono considerate come French benefit? No 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 il French benefit è un una previsione unilaterale al massimo sul la possibilità di tramutare un pezzo dei flexible benefit in quell'ambito eh quindi il secondo livello può fare quello che gli pare può dare il premio di produttività o può decidere di eh prevedere del delle somme di welfare eh di welfare di secondo livello eh sono però due cose diverse il premio di produttività è una cosa il welfare eh il flexible benefit sono un'altra cosa i French benefit sono un'altra cosa ancora che consente anche unilateralmente al datore di lavoro di erogare delle somme. Per questo abbiamo detto che faremmo questa attività di accompagnamento perché appunto no Andrea in in futuro perché deve essere chiaro eh l'utilizzo e le varie opportunità che possono essere date ai datori di lavoro. allora mh i colleghi di commercio Marche Centrali che saluto ci chiedono se eh ci sono novità sul personale delle aziende locali notturni. Allora eh i criteri equiparazione con la situazione normale allora equiparazione no perché sono due contratti eh nazionali di lavoro diversi contiamo con il favore eh del presidente dei locali notturni cioè il presidente Maurizio Pasca di arrivare prossimamente anche all'avvio della negoziazione e rinnovo di quel contratto che è quello che contiene la classificazione del personale dei locali notturni ehm che è personale a tempo determinato segue logiche diverse dove sono contenute le figure che il i colleghi di commercio Marche Centrali indicano cioè gli sgiochei eh o quelle relative insomma ai locali notturni ehm quindi sono due cose diverse sono due contratti diversi quindi hanno un campo d'applicazione diverso le aziende le le aziende i locali notturni possono applicare applicano il contratto FIPE per il personale di pubblico esercizio isti insomma aristi camerieri cuochi eccetera eccetera Mirko ci chiede in merito al dumping contrattuale ci sono comunicati o tutele per aziende o dipendenti bella domanda Mirko realizzeremo un aggiornamento del manuale sul dumping contestualmente la federazione eh trasmette il testo anche a tutti gli organi di controllo per fare in modo che ci sia un presidio ostante su questo fronte e al quale teniamo molto il direttore in in particolare ma anche noi è un tema di serietà e legalità a cui teniamo molto per tutelare come giustamente eh tu chiedi le le aziende e i dipendenti. Andrea a questo proposito si potrebbe vediamo se ci sono le possibilità anche in sede di stesura magari definire un protocollo avevamo parlato più volte di un protocollo i sindacati saranno sicuramente d'accordo e poi possa consentire di essere la base di un protocollo triangolare o quadrangolare a seconda dei soggetti che possono essere coinvolti che mi pare va un po' nel senso anche della domanda che viene che viene posta. Naturalmente questo sarà oggetto di di registrata questa riunione di qualche vera. Allora intanto che Andrea sta vedendo una cosa sui novanta giorni eh a Paolo eh da Gela salutaci la Sicilia eh dico che questa registrazione questa riunione registrata e poi faremo in modo che comunque rimane disponibile per eh per essere rivista grazie anche per le belle parole che hai speso. Hai approfondito quei novanta sono. Devo solo verificare perché mh segue il testo di legge quindi. La domanda. Sì no ci chiedevano se il congetto per le donne vittime di violenza sono lavorativi e sono a carico del datore lavoro. A carico del datore lavoro sicuramente eh i primi novanta giorni previsti dalla legge il datore di lavoro anticipa e poi recupera con l'INPS la retribuzione di fatto. I gli ulteriori novanta giorni sono a carico del datore di lavoro. Eh sul lavorativi o o di calendario in linea di massima dovrebbe essere di calendario perché non è specificato però ehm approfondiamo perché segue il testo di legge che che è abbastanza diciamo puntuale su su questo tema. Ehm poi salve Grimaldi Paolo Fipe Gela c'è la possibilità di rivedere questa riunione. Ok è possibile eh conosce il coefficiente di proporzione per il calcolo delle retribuzioni non c'è un coefficiente di proporzione c'è un un calcolo che viene fatto sul sull'aumento percentuale in funzione delle tranche che vengono riparametrate sul lavoro extra noiosissima questa cosa che sto dicendo in virtù della quale le tabelle vengono riadeguate in virtù di della proporzionalità dell'aumento percentuale che dicevo prima quindi i cinquanta euro vengono riparametrati sull'aumento da tranche a tranche da livello a livello e con un noiosissimo Excel vengono riparametrati sul lavoro extra non c'è un coefficiente vero e proprio segue il l'aumento percentuale delle retribuzioni. Le casali a tempo determinato Giussi Benazzi ciao Giussi non è stato previsto nulla nel terzario sono state previste perché il terzario è un settore diverso da questo per andare oltre i dodici mesi c'è la stagionalità contrattuale che disciplina dagli articoli ottantanove e seguenti nonché dalla dalla possibilità di ricorrere nuove attività a memoria articolo ottantasette vi ricordo sulle nuove attività questa è una precisazione che mi sento di fare che eh eh il legislatore nonché anche il ministero è abbastanza ampio nella ricomprensione delle nuove attività nuova attività non è solo l'apertura del nuovo locale ma è anche il lancio di un nuovo prodotto un nuovo menu una nuova linea quindi utilizziamo gli strumenti che abbiamo eh in maniera cosciente diciamo le causali a tempo determinato sopra i dodici mesi sono particolarmente poco utilizzabili per un settore come quello della del pubblico esercizio perché non c'è una riconduzione ben specifica a una motivazione il rischio di contenzioso abbiamo ritenuto essere superiore rispetto al al beneficio possibile in che modo ciò influisce su quelli di noi che hanno assunto un apprendistato spettatore anonimo non ci sono alcune conseguenze sull'apprendistato nel senso l'apprendistato ha una retribuzione percentuale che segue eh gli aumenti eh che hanno la generalità dei dei dipendenti quindi ehm se ehm se diciamo l'aumento segue quindi quel principio lì e quindi automaticamente gli apprendisti hanno la retribuzione aumentata proporzionalmente ma non non è stato toccato nulla dell'apprendistato per caso si è discusso la settimana corta cinque giorni su sette in ottica di equilibrio vita lavoro e dipendenti si è discusso una persona nella stessa giornata lavorativa senza essere sanzionati vista l'emergenza di trovare lavoratori e eh a Roman chiedo perdono per la la pronuncia Tulikanov caro Roman queste due cose si possono già fare poi benissimo eh organizzare la settimana lavorativa in cinque giorni con l'orario di otto ore al giorno per le quaranta ore settimanali è già possibile farlo così come puoi farlo anche di quattro ha il massimo di quaranta ore settimanali nessuno te lo vieta ehm la persona nella stessa giornata lavorativa si può fare per situazioni di emergenza senza essere sanzionati l'emergenza di trovare lavoratori c'è nel caso in cui una persona si ammala o per causa di forza maggiore lo puoi assumere nella stessa giornata il ministero del lavoro si è espresso nel duemilasette su questi temi con sia una circolare che con una nota e quindi vi invito anche qui a farvi seguire dalle persone giuste che significa i nostri colleghi delle con commercio locali più che qualcuno che magari non conosce il settore quindi entrambe le cose si possono fare buongiorno a seguito del rinnovo lo scatto in anzianità continua a essere escluso dalla quattordicesima lo scatto in anzianità sì continua a essere escluso Paolo Naldi ciao Paolo ti sei fermato firmato e ti conosciamo bene ti salutiamo buongiorno grazie per l'invito ci sono novità sul periodo di prova nei contratti a a tempo determinato no allora Giuseppe mh grazie per la domanda abbiamo provato a inserirlo ma le organizzazioni sindacali si sono dimostrate eh indisponibili alla modifica eh quindi rimangono i dieci giorni attuali Paolo torno sui contratti a tempo determinato i colleghi solo domande su sui contratti a tempo determinato mi pare che sia l'unico tema interessante ho la ho la confidenza per poter per poter per potermela prendere con i colleghi Paolo torno sui contratti a tempo determinato la mancata disciplina delle causali consente di superare eh vale la domanda che dicevo la risposta che dicevo prima scusate eh nel senso che la stagionalità consente di andare sopra i ventiquattro mesi consente di derogare lo stop and go consente di derogare i dodici mesi a causali e consente di derogare al limite i quantitativi ci sono particolari ci sono particolari circa eventuali assorbimenti d'aumento contrattuale non ci sono non è stato previsto nulla quindi è possibile assorbire Confcommercio Asti ci chiede Cristina Bono quando saranno disponibili i contratti cartacei eh questa è una domanda straordinaria siete avanguardisti speriamo in autunno eh Paolo di nuovo il quesito ovviamente con rinnovi e non proroghe che determinano il superamento e dodici mesi senza corretto Paolo penso di averti già risposto la la precisazione tua è corretta cioè quella che i dodici mesi si possono superare con i rinnovi e non con le proroghe le proroghe sono sempre massimo quattro nella famosa vita del lavoratore Luca Vizzini solo una riflessione ciao Luca Confcommercio Milano visto il forte turno imprenditoriale nel nostro settore il tempo terminato per nuove attività uno strumento a valorizzare ecco penso di averti letto nella testa Luca di averlo detto prima prima di leggere la tua domanda eh lo utilizzerei l'articolo 87 è uno strumento più che utile e ripeto ci sono chiarimenti del ministero del lavoro che consentono in di ampliare la sfera del concetto di nuova attività soprattutto in un settore come il nostro aggiungo Angelo Giraldi che saluto ciao Angelo buon pomeriggio in caso di dimissioni nei contratti a tempo determinato sono state inserite variazioni no non è stato inserito penso di aver risposto prima sul periodo di prova ma la stessa cosa sulle dimissioni le dimissioni diciamo così sul tempo determinato in teoria non sarebbero consentite il tempo determinato eh a a un termine e quel è quello il eh il termine termine del contratto poi sappiamo bene come funziona per gli intermittenti è possibile prorogare i contratti a tempo determinato o è necessario spettatore anomalo anonimo e strana anche la domanda il contratto di lavoro non si occupa degli intermittenti che sono ben disciplinati eh dalla legge e dai decreti vari che hanno molti anni e consente il nostro settore di utilizzare il lavoro intermittente in maniera molto flessibile e ampia cioè di ricorrere senza i limiti anagrafici cassazione del duemilaventitré ehm perché il personale di servizio del pubblico esercizio ha l'opportunità come requisito oggettivo di poter accedere al lavoro intermittente senza particolari problemi il lavoro intermittente non è un lavoro a tempo determinato sono due fatti specie diverse poste in due capi diversi il decreto ottantuno decreto ottantuno eh articolo diciannove e seguenti il tempo determinato lavoro intermittente articoli tredici e seguenti quindi sono due cose diverse non mischiamo le la possibilità di utilizzo del lavoro intermittente è già molto ampio buongiorno articolo novanta si applica alle sole aziende stagionali? No l'articolo novanta è per le aziende ad apertura annuale lo dice spessamente l'articolo ottantanove del contratto è per le aziende che osservano i periodi famosi di chiusura settanta giorni continuativi o i centoventi non continuativi con le domande abbiamo finito direi stop alle telefonate stop alle telefonate che mi sembra che avete messa alla prova Andrea gli faccio i complimenti perché mi sembra abbia dato delle risposte però ti rilubo in conclusione oltre ai ringraziamenti per tutti coloro che ci hanno continuato a seguire perché insomma siete veramente tanti siete rimasti qui quindi questo mi mi fa mi fa piacere significa che magari le informazioni sono state percepite come utili eh una considerazione che hai fatto prima fra le righe ma che io invece voglio rimarcare con forza noi quando facciamo questi collegamenti lo facciamo con a volte o solo con i colleghi delle territoriali o a volte invece anche aperti questo era uno che abbiamo fatto aperto visto il tema della giornata allora lo dico a tutti coloro che magari gli imprenditori ma credo ci fosse anche qualche consulente del lavoro o qualche professionista mi raccomando fate riferimento alla confommercio la Fipe è la confommercio la confommercio territoriale più vicina a voi perché poi le specificità del contratto le specificità settoriali sono veramente particolari e talvolta ci rendiamo conto che non sempre il contratto viene applicato con tutte le sue potenzialità con tutte le sue flessibilità quindi mi raccomando fare il riferimento sempre alla confommercio più vicina basta andare sul nostro sito internet e lì troverete i riferimenti rispetto alle territoriali che sono più vicini saluto e ringrazio a tutti i colleghi molti mi hanno scritto ci hanno scritto anche sul cellulare ripeto è stato un lavoro complicato siamo felicissimi di averlo portato a compimento non felici per noi ma felici per il settore questo è davvero il messaggio che vi voglio lasciare felici per il settore che finalmente ha un contratto rinnovato e che può affrontare la stagione a testa alza sul congeto la verifica è stata fatta ma quella dei fortunatamente ci sono i colleghi che aiutano anche ringrazio tutti i colleghi del territorio siamo una squadra straordinaria sono 90 giorni sono lavorativi non di calendario sono lavorativi perché la legge ti rimanda a un lavorativo probabilmente e quindi hai un lavorativo la collega nello specifico che non farò il nome che mi ha spoilerato sono veramente i colleghi del territorio li ringrazio sia per le domande che per la collaborazione anche durante la negoziazione sono veramente preziosi e grazie allora temo anche di sapere chi è la collega a questo momento e temo che sia anche al mare quindi la lasciamo la lasciamo al mare in questo momento eh anzi vatti a fare un bagno eh e e e nulla ci aggiorniamo eh abbiamo ricevuto diverse richieste di avere Chiriatti in giro per l'Italia ve lo manderemo eh prima o poi rimandatecelo indietro e nel frattempo un abbraccio a tutti voi grazie e viva la Fipe viva la Confomercio grazie arrivederci salve a tutti grazie a tutti